Bella a tutti ragazzi siamo tornati qui su un nuovo video di MotoGP dopo tanto tempo Riparte di nuovo la serie E ragazzi ho avuto degli imprevisti Ho avuto degli imprevisti barra contrattempi E infatti vi ho fatto uscire Ride 2 E spero che questo video vi piaccia dopo tanto tempo Siamo in Spagna in Catalunia Qui mi ricordo la battaglia del 2006-2007 di Valentino Org Lorenzo Mamma mia ragazzi Mamma mia C'ho i brividi da ripensarci In quella staccata Mamma mia C'è quella staccata Quella ultima curva Mamma mia Ultima curva Un saluto e un buongiorno dal circuito di Barcelona in Catalunia Dai ragazzi si parte subito Allora ragazzi ci vediamo dopo il giro di qualifica come sempre Intanto metto qui i dettagli Anzi ve la faccio vedere se qualcuno fosse interessato Ve la faccio vedere le marce come le metto Perché io modifico soltanto le marce della mototerie e basta E alcune volte i freni anteriore e posteriore E... I freni Mettiamo disco 1, disco... Anzi disco 2, disco 1 Dai ragazzi vediamo Allora eccoci qua ragazzi E ho avuto E ho avuto Molto difficoltà con Il cambiamento L'aggiornamento Della pista Della Spagna Dopo L'incendio di Luis Salom Povero ragazzo Vabbè ma noi non siamo qui per Piangere Ma siamo qui per divertirsi E... Ragazzi ho avuto molto difficoltà Come avevo già detto E... È andata non male Per la prima volta che provo questo circuito Circuito Nuovo Rimodulato per la moto 3 moto 2 moto gp E... Mi sono trovato Molto in difficoltà Devo dire Molto in difficoltà Nel terzo settore Nel quarto settore Cioè nel tratto finale Che poi hanno cambiato Anche la curva Dove Andava all'urgo E... Tipo a U Invece ora è a U Buongiorno Buongiorno Vabbè ragazzi Ma sono dettagli Andiamo subito in pista Vai scendiamo subito in pista Allora Per una fila Ve la farò vedere Ve la farò Partito per la gara Aspettiamo solo che il semaforo si accenda Mentre i piloti usano questi secondi Per trovare il massimo della concentrazione Guardate Eccolo qui In mira Dovevamo battere Mira e Bullega Perci forti Dai 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 E parte Andiamo Guardiamo Ultimo spunto Della nostra mindra Possiamo dire Dai vai 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 Prendita la scia Prendita la scia Ligiano Antonio Tutta la scia E c'è la piena Di che fa tutto male Partito in seconda fila Attenzione Staccata Per potentissima Ah si Largissima Largissima Aia Botte su botte Ragazzi Riavviamo subito la gara Perché mi dispiace anche Per quello che è caduto Mi dispiace anche Mi dispiace anche Per quello che è caduto Mi dispiace troppo Ci siamo ragazzi Già che mi fa l'inconveniente Ma Mi dispiace Vai andiamo Proviamoci Vai partner Lo spunto Come sempre Non benissimo Andiamo subito Per una giustatia Per una giustatia Di battaglini Il sbacchio Di nuovo fedaci Ripetendo il nuovo male Come mai Non si sa Stacca attacchi in fondo Stacchiamo primo Facciamo la curva Un po' meglio Che prima Sessione che Amanessa Non abbiamo paura Delle curve Però ora Troppo interno Andiamo all'esterno Quegli altri Si superano Benissimo Attenzione Attenzione Max p Max p Max p Mi capiamo Indietro al miglio Dov'è bulica Migno Dov'è bulica Non è un problema Che bulica Si funziona all'esterno Di P Sperchiamo l'incroste Sipi la bulica Amm C'ha bulica Migno Amm C'ha Migno Si proviamo Si proviamo Si proviamo Si proviamo Si è l'interno Si si raccordano All'esterno L'interno Me l'abbiamo Un po' Cazzo ragazzi Me l'abbiamo Un po' Cazzo Perché andiamo Sì Minto Mardo Canessa Non mi romper Non mi romper Canessa Vieni qua Quella tua Onda Maledetta L'interno Si muove Un po' Oh Mi sbaglio Sempre qui Ragazzi Stai capendo Lui me la ricorda Molto bene Lascio in mano Andiamo Sì Aia Aia Dolore 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 Tanto dolore Ragazzi Mir Mira un po' Qui Mira No Mira Mir Vieni qua Sì Con quella onda Lì Quando ci avrò un fiore onda Ci farò il Pulo Facciamo il pulo Dai Il pulo Tutta la scia Di Mir Andiamo Parte in prima posizione La nostra Mahindra Il nostro Two-gamer Attenzione Staccata qui in fondo Ragazzi Vi ricorda che stanno In vita Senza Aiuto Attenzione Qui a Mir Mi vuole sapere Contro la lotta Anteriore di Mir Tra un pochino Attenzione Mir Porta verso l'esterno Mir Porta verso l'interno Che cazzo Dai Tu Numero Aia Tanto Dolore Dolore Troppo interno Parte a battere Il posteriore Parte Mico Attenzione Attenzione Troppo di scena Parte Mi giusto Di più Andiamo Giù Ragazzi Ragazzi Io questa curva La faccio Come fosse Avere Una moto GP Intrappiana Per riuscire Forte Ma invece Sono in moto A3 In questa 100 metri Staccata Profonda Guarda Con il quarto Ribigliano Ragazzi Abbiamo preso Un muccio L'abbiamo preso Un muccio Anche all'esterno Vediamo tipo Un incrocio In traiettoria Non intanto Un incrocio Ma all'esterno Qui di nuovo E lo super Amir Con gran classe Qui il posteriore Che si muove Un pochino L'anteriore Attenzione Sì La manetta Un posteriore Che scivola Non manco Se fosse Un moto A2 Non manco Se fosse Un moto A2 Anche così Attenzione Tutta la scia Con mir Dietro Di noi Figlia Lascia Metti la Fib Metti la Sesta Oh Marti Un gran motore Un gran motore Onda Marti Mi serve Marti Che provare A attacca Non lasciamo Uno spiraglio Mamma mia Ragazzi Ultimo giro Ultimo giro Da paura Una posizione Andiamo 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 Attenzione Lotta per la Prima posizione Stagionale Per il nostro Mahindra Per il nostro Chibema Attenzione 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 Mi sento Troppo dietro Mi sento Troppo dietro Guardate che Pugano All'attacco Qui Mettiamoci Mettiamo La pista Chiudiamo Subito Malissimo 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 Un po' di corda Sì Un po' ancora peggio Ahia Eccolo Marti Sei dietro Sei dietro Devi star Eeeh Cos'è Vabbè Dai Ragazzi Su Dai No Dai ragazzi Non ho fatto mica Apposto Dai Arena contro Arena Ehm 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 Evviva Eh no ragazzi Eh Non ci sto Eh Caspita Fate caso così tanto Per un cordolo Piccolino Un pochino Rialzato Per cadere No Eh no Eh Ultima curva Ok Ultima curva Ultimo settore Andiamo Ultimo settore Con la moto di traverso E anche se Sono la moto 2 Vi ripeto Sono la moto 2 Traverso Di con la moto 3 Cazzone Il panico Il panico Sta fingendo Il panico 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 Corri Corri Maindra Traversoni Pure qui E non ce la fa Ce la fa Oh Io sono dritto Non vado da nessuna parte Andiamo Andiamo ragazzi Andiamo Andiamo Prima vittoria stagionale Guardali come sono ridente Andiamo alle prime azioni Non so Song Nostro song 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 Ventisesimo song Buonissimo 19 punti Stacco Terza posizione Andiamo Terza posizione 19 punti Ragazzi Ancora lungo il mondiale Ancora lungo il mondiale Dobbiamo competere Con il mondiale Dobbiamo competere Guardali come si muove Bravo Goiti sta vittoria Per ora Goiti sta vittoria Va bene Altro pilota Sbloccato Ok va bene Song Venticinquesimo Buono Noi primi 11.757 CR Attenzione Crediti Andiamo Ragazzi È ancora molto molto lunga Il mondiale Non vedo l'ora Di essere al Mugello Non vedo l'ora Di essere al Mugello Dai ragazzi Andiamo Subito Al prossimo weekend Tanto Una settimana Manca Gestioni staff Guardiamo com'è Una settimana Cinque settimane Cinque settimane Buono Prossimo weekend Evento sponsor 3000 critici Danno Evento sponsor Coach coordinazione Coach coordinazione Si dai Prendiamo questo Più muscoli Più frenata Più forza Ci da Un po' che parole Su tutto Mentalità Fisico Curva Pieghe Così Scusatemi Ragazzi Sviluppa Sviluppa La moto Sì 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 Ok Va bene Allora Sospensioni Telaio Telaio Vuol dire Più leggero A regola Però la sospensione È meglio in frenata Freni È ancora meglio in frenata Quindi andiamo su freni Andiamo su freni Puntiamo tutto sul freni A me è la cosa ideale Sui freni Vabbè Subito Il prossimo weekend Il prossimo weekend Dove Aston Attenzione Qui a Aston Qui l'anno scorso Rossi Nella Secondo Ed è caduto Quasi alle ultime curve Finali Mancavano ancora Sei giri 5-4 giri Alla conclusione Del gran premio Di Aston In Olanda Il mare è caduto Ok ragazzi Ci vediamo Dopo il giro di qualifiche Buongiorno Buongiorno anche a te Guido Allora Andiamo subito A fare il giro di qualifiche Ragazzi E ci vediamo Dopo il giro di qualifiche Ok ragazzi Il giro di qualifiche È stato Completato Non è stato Un gran che Come Sto A fare Nella moto E Facciamo Subito Salta gara Non Guardiamo Qui 13esmo Non Sarò Un gran che Mostro Un po' Sound Non lo trovo Non trovo Sound Ragazzi Non trovo Sound 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 29esimo Sembra 29esimo Sound Ok 25esimo Barra 24esimo Non l'ho visto Tanto bene Ok È un chilometro Molto Molto Difficile Soprattutto Nel primo settore Se ti sbagli L'entrata Della curva 2 Sbagli Tutto Il primo Settore Ed è Una pista Molto Molto Insidiosa Con Delle Buche Dei Dossi Che Possono Causare Molto Molte Difficoltà Il nostro Pilota E Facendo male Sospensioni Ok Dani Non si vediamo In gara Speriamo Che Ha Vato Bene Ok 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 Traguardo Io lo taglierò La guida Per te Taglierò Il primo Contraguardo Per te Mamma mia Ragazzi In me da gruppo Siamo Dai ragazzi Che fate Quanto Non vionando Dai Via Via Ottimo Non buonissimo Lo spinto Dei Ma sono Indra Che Vediamo Qui Ma Va Sessione Che Sessione La Beh Dai Ragazzi La maica è fatta veramente amare per tutti i blocchi, funzionate con i tosci, cadono come un spesso di pattaccia, vedete? Ho già dato la curva 2, ho sbagliato il senso fuori, è sempre più lungo, no, come ho detto, questa cosa non è fallita, perché non è fallita? E qua, Rere! C'è la spiegazione, 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 c'è la spiegazione. C'è la spiegazione, c'è la spiegazione, c'è la spiegazione, il joined �! Perchè non ci continuiamo, ma ora la spiegazione. sono qui all'interno di Fennati, buono per Feezer, quarta posizione, mi sembra che è nati che mi trova all'interno, come terminavo prima, mi sono aspetta la propria cassa all'interno, mi sembra qui, in alto Gran Premio abbiamo strappato dai gommi posteriori, abbiamo strappato, mi sembra che questo Gran Premio qui si facciamo arrivare in fondo, mi sembra qui, qui bella, questa tutta, sono qui molto più forte per la punta, il mio panico più forte, il cittadino qui, cambio di direzione, sono qui, sono qui, sono qui, mamma mia, mi trova a cannone, mamma mia, è rimasto molto, il canante, il cittadino quasi ha un tocco, lì, ventione, ventione, attenzione, dai, canne, leva tu da qui, via, canne, leva, che, il cittadino è qui, molto tempo, largo, 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 dai, ma in, la filantrazia, ventrini due, ventrini due, se no l'attacco, proviamo, proviamo, proviamo l'attacco, 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 non l'attacco, no, 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 dai, ragazzi, non capisco perché, non capisco perché faccio il drift con la moto 3, cioè, non è impressionante, aia, scusa, eh, eh, cazzo, canne, eh, cazzarola, ma guardiamo, è entrata a cannone, guardiamo questa spros, mado, bellissima questa prospettiva, eh, però, dai, ora non facciamo più capellate, non facciamo più capellate, ma non facciamo più capellate, ma non facciamo più capellate, mamma mia, non l'interno che infiglia, ma con gran classe, come, ma che l'aggressività, sono stati, però, vabbè, speriamo, speriamo che il giudice di gara non ci vada più molto, troppo aggressività, eh, vabbè, sì, ok, largissimo, sì, guardiamo, 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 nel cordolo mi sbalza la moto dai ma cos'è ciò che siamo su delle molle sezione qui di nuovo che è nato sezione si chiude il 2-3 giro, non so chi è sezione comenta l'ultimo giro, ora incominenta l'ultimo giro sezione ultimo giro da paura dentro andiamo proprio verso l'argo l'ha portato grande ma era Marti che ha portato verso l'esterno e per i nuovi si rinfila e de onde il croce fantastico sezione di nuovo, attenzione Marti pure Marti, Marti Marti, ti lascia di lui dai Marti bella Marti post galassia Marti non l'ha fatto, proviamo attacca bene, bene con Marti non lo spero chiudiamola mi sbaglio l'intanto della Marti sezione di nuovo sezione qui di nuovo non so chi è non lo so sezione qui si proviamo no, il primo è stato forte miro staccato veramente forte miro si, vale sempre stavessi di questa cosa sezione largo Marti ci infila ci infila canesso non lo so fino a lunghi la Marti è ancora qui è solo mi ha finito l'imposibile ma è da impossibile è veramente impossibile è veramente impossibile eh, la posizione è veramente impossibile noi ci troviamo ci troviamo funziona tanto siamo già terzi dobbiamo fare questo qui un capolavoro dobbiamo fare un capolavoro un capolavoro eh, tagliate tagliate eh, vabbè ragazzi vabbè vabbè non so se la posso salvare si, si, dai la posso salvare dai terza posizione buono, buono buonissima terza posizione per la nostra Mahindra molto, molto bella attenzione sbalziamo in terza posizione meno, meno 22 attenzione le nostre song si è nimenticatevi di vederla va bene così va bene va bene va bene ma vai calma, calma sei stato bravo 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 adesso dove c'è anche il suo ingegnere va bene sei stato molto bravo nuovo pilota sbloccato ok martin posizione gara 25 va buono 13.000 crediti allora ragazzi l'episodio di oggi si potrebbe anche concludersi qui io vi do un abbraccio un saluto io vi dico iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto lasciate un bel mi piace commentate noi ragazzi ci vediamo al prossimo video qui è tutto tutto ciò gamer bella